Ciao a tutti e bentornati in Tessiland Condivision, la rubrica fatta da voi e per voi. Anche quest'oggi analizzeremo insieme quattro progetti pubblicati sul nostro solo, unico ed ufficiale gruppo Tessiland e parleremo ovviamente delle loro creatrici. Nel dettaglio quest'oggi parleremo di Cristina, Silvia, Roberta e Maria. Iniziamo subito da Cristina, dai suoi progetti, parleremo di ben due creazioni, e anche della sua vita, da cui sicuramente possiamo trarre un grande insegnamento. Non prima ovviamente della nostra sigla. Cristina ci ha inviato un testo che io ovviamente leggerò e cercherò di interpretare al meglio. Ciao a tutti, mi chiamo Cristina, ho 57 anni e sono sposata con un marito meraviglioso. Sono di Trieste, una bella città ricca di storia e di arte. La nostra bella piazza si affaccia sul mare, piazza Unità d'Italia, la città della Bora, un vento forte e freddo che soffia da nord-est. Il molo audace, spazzato dalla Bora, con un entroterra che guarda l'altopiano carsico con la sua flora e la sua fauna. Sono una persona che ama la natura, i colori, tutto ciò che brilla e non sopporto la simmetria. Adoro la fantasia, l'originalità e la creatività, che fanno parte proprio del mio essere. Tutta la mia voglia di creare è un po' frenata dalla mia malattia, sclerosi multipla. Ma non mi fermo. Per le mie creazioni ho preso spunto da alcuni tutorial di Kao Crochet Maniac. La casacca è stata eseguita con il doni sfumato carbone, due gomitoli, e un gomitolo invece di doni sfumato lampone, di cui mi è avanzato circa la metà. L'uncinetto utilizzato invece è il numero 4. I pannelli hanno una larghezza di 55 cm, da piastrella a piastrella, e la lunghezza davanti è 65 cm, mentre dietro 70. La piastrella invece misura 8 cm. Il punto utilizzato è quello a rete, intervallato dai punti alti che formano un cerchio, e il tutto è stato rifinito dal punto gambero. La lavorazione del doni è fantastica, scivola sull'uncinetto ed è molto morbido. Per quanto riguarda il marsupio tracolla, ho utilizzato invece il tornado salvia, mandarino, limone e rosso. Quello che ho usato di più è il verde, di cui mi è avanzato circa mezza rocca. L'uncinetto utilizzato invece è il numero 5 e la piastrella è di circa 18 cm. Ho completato il tutto con i pannolenci color cannella, la zippa metro color militare, due moschettoni a mezzaluna e una tracolla all style. La lavorazione del tornado è stata una sorpresa. Lo pensavo molto duro, invece sono riuscita senza difficoltà. Questi progetti mi sono subito piaciuti per i loro colori allegri e intonati tra loro. E mi ritengo soddisfatta. Un grazie a tutte le uncinettine che mi hanno dato tanta soddisfazione. E un grazie a tutto il gruppo Tessiland. E noi invece ovviamente ringraziamo Cristina per averci permesso di parlare della sua creazione, ma anche di sé. E per averci dimostrato che la creatività e la voglia di farlo possono superare davvero tantissimi limiti, e in alcuni casi anche aiutare a farlo. Quindi siamo noi a ringraziare te Cristina. Adesso invece per il secondo progetto parliamo di Silvia. Il suo nome sul gruppo Tessiland, su Facebook diciamo in generale, è Silvia e me di mamma. Lei ha realizzato questa meravigliosa pochette con il Drake e l'uncinetto 3,5. Posta tantissime creazioni realizzate tutte con i nostri articoli, devo dire che sono molti e molto belli. Quindi davvero complimenti Silvia. Per quanto riguarda questa pochette ci ha detto che ha preso ispirazione da un progetto visionato online e poi si è lasciato ispirare dalla sua creatività. Scegliendo di mettere il motivo di queste particolari mattonelle in orizzontale, anziché in verticale, e di utilizzarle sulla patta e sul retro della borsa. Mentre per la restante parte del pannello ho utilizzato il colore meno predominante, arancio in questo caso. I punti utilizzati sono per la maggior parte maglie alte, ha utilizzato il Drake, ha poi il rigidito con il feltro, ci dà anche però un piccolo suggerimento. Infatti utilizzerebbe l'uncinetto numero 3 per avere una trama più fitta e il rigidirebbe con la rete canvas, in modo tale da dare un maggior sostegno. Ha utilizzato poco più di un gomitolo per colore e le dimensioni sono 30x20x26. Non ha avuto grosse difficoltà, se non quella di assemblare le varie mattonelle, che più che difficoltà ha detto semplicemente che la sua pazienza è stata messa a dura prova. Ma ci ha inviato anche un vocale con delle foto e quindi guardiamo, ascoltiamo insieme. Ciao Valentina, ciao a tutte. Io sono Silvia e abito a Ispica, che è un piccolo paesino della provincia di Ragusa in Sicilia. Sono una creativa sin da bambina, perché sono cresciuta in mezzo alle mie zie e a mia mamma, che cucivano e che lavoravano a maglia, per cui ho sviluppato questo amore per la creatività sin da bambina. Mi sono appassionata all'uncinetto da qualche anno a questa parte, perché fra tutte le cose che mi piace fare, forse è quella che mi piace di più, perché mi rilassa tantissimo, soprattutto in quest'ultimo periodo, perché mi ritrovo la sera nel silenzio della mia casa. Mio marito lavora fuori all'estero da due anni a questa parte. E quindi la sera, una volta che metto a letto i bambini, mi ritrovo veramente nel silenzio, e quindi l'uncinetto è come se fosse una cura per me. Mi distrae dai pensieri e dalla malinconia, e quindi non riesco più a farne a meno. Per me è veramente una cura e una passione. Per cui ho scoperto voi della Tessiland, dalla quale compro una miriade di filati, e lavoro. È iniziato un po' tutto per gioco, ma è diventata la mia cura e la mia passione. Per cui vi ringrazio per questa opportunità, e vi abbraccio forte tutti. E noi mandiamo un abbraccio forte a te, Silvia, e mi raccomando continua, perché di creatività ne hai tanta, e la sai sfruttare bene. Parliamo invece adesso di un'altra borsa, gli accessori si sa, ci piacciono tanto. In questo caso è quella di Roberta Trifoletti, che ha realizzato questa borsa con il Thai Slim Sfumato Blueberry. Ci ha inviato un vocale con delle foto, e quindi io adesso che posso, taccio che è meglio, e guardiamo, ascoltiamo insieme il vocale di Roberta. Ciao a tutti, sono Roberta, vengo da Santa Lucia del Mela, un paesino in provincia di Messina, nella bellissima Sicilia. Ho iniziato a creare circa quattro anni fa, ricordo ancora il mio primo lavoro, e le difficoltà in cui mi sono ritrovata, vista la mia poca esperienza con l'uncinetto, e infatti mi aiutavo molto con i vari tutorial presi su internet. Sono dell'idea che creare un lavoro fatto con le proprie mani, partendo da zero, sia una soddisfazione indescrivibile, ed è quella soddisfazione che mi ha spinto a continuare a creare, e a migliorarmi, utilizzando anche diversi filati e punti. Per quanto riguarda il mio ultimo progetto, che misura 20 cm di altezza, per 25 cm di larghezza, con una profondità di 10, ho utilizzato due rocche di Thai Slim, un filato davvero ottimo, si lavora abbastanza bene, in questa fantastica colorazione delle Mille Sfumatore di Blu, perché credo sia perfetto per questa stagione, primavera-estate, un uncinetto numero 3, e una chiusura AT. Invece per il punto, ho utilizzato la classica maglia bassa, con l'aggiunta di questi incroci, per avere quel tocco di particolarità, che nemmeno io credevo di poter ottenere. Onestamente, posso dire di essere davvero orgogliosa, del risultato che ho ottenuto, visto anche dai tanti commenti ottenuti, commenti e like ottenuti, proprio sulla vostra pagina. Ringrazio voi di Tessilende, per avermi dato questa opportunità, di far parte di questa rubrica, e vi ringrazio anche per avermi dato la possibilità, di far conoscere la mia realizzazione, a chi come me ha la stessa passione. Grazie, spero di esservi stata utile, un saluto a tutti. Grazie a te Roberta, davvero per averci parlato, è sempre un piacere ascoltarvi, sentire e percepire la vostra creatività, perché così ci sentiamo ancora di più, parte di questa immensa famiglia Tessilende. Parliamo adesso invece dell'ultimo progetto, vale a dire la foto che ho ottenuto più mi piace, durante il mese di aprile. Vorrei dirvi di più, ma purtroppo non posso, perché abbiamo provato a contattare la protagonista, ma evidentemente non è molto avvezza sui social, e quindi non abbiamo ricevuto risposta. Però meritava di essere citata, perché pensate che la foto delle sue dolcissime due nipotine, ha ottenuto più di 1300 mi piace, e una miriade di commenti a centinaia, quindi andava premiata e andava citata. Maria Frosini, che ha realizzato questi due cardigan con il filato Iggy, cardigan che ha presentato, seguendo il tutorial Coco Chanel, della Fatta Tutto Fare. Quindi che dire, bastano e avanzano, noi comunque ti ringraziamo per aver pubblicato questa foto sul nostro gruppo Tessilan, e ti facciamo i complimenti, perché 1300 sono davvero tanti, eh. E la puntata di Tessilan Condivision, si conclude qui. Io ringrazio davvero tantissimo le protagoniste di oggi, vale a dire Cristina, Silvia, Roberta, e anche Maria, anche se non ha partecipato direttamente. Ringrazio Cristina per averci parlato di sé, anche in maniera più intima, Silvia, che ci riempie il gruppo Tessilan, e dei suoi progetti, e Roberta, che in maniera davvero molto delicata, ci ha parlato della sua pochette. Vi ricordo di seguirci su tutti i nostri social, vale a dire YouTube, quindi mi raccomando, iscrivetevi al canale, e attivate la campanella. Di seguirci anche sugli altri social, quindi Instagram, Pinterest, TikTok, e Facebook, sia sulla pagina Meio di Maya, che sul gruppo Tessilan. Che dire, di cliccare un pollice in su, e di commentare qui sotto i video, perché poi le creative, vedono la puntata, vedono i loro progetti, e sicuramente ricevere i vostri complimenti, e i vostri apprezzamenti, non fa che piacere, come del resto a me, quando vedo commenti positivi, e mi piace, ovvio. Io vi ringrazio come sempre, per averci seguito, e noi ci vediamo il prossimo mese, per vedere quali sono i progetti, con più mi piace, più commentati, più belli, del mese di maggio. Alla prossima puntata, di Tessilan Condivision. Ciao! Ciao!